Finalmente un brano italiano, dance, che torna in vetta alle classifiche di tutta Europa. Analizziamo le ragioni del successo di Piece of Your Heart di Medusa in questo video, ma ti direi intanto di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. È dall'inizio dell'anno che sentiamo questo down 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 ovunque, in qualsiasi bar, discoteca, radio, ecc. Ed è un successo tutto italiano che è riuscito a scalare le classifiche sia di vendita e di streaming di tutta Europa. È la prima volta dopo vent'anni che un brano italiano torna nella top ten inglese. Piece of Your Heart di Medusa è stato proprio concepito, sembrerebbe, per quel tipo di mercato. Ma andiamo con ordine. Intanto in Medusa sono tre ragazzi italiani, Simone Gianni, Mattia Vitale e Luca De Gregorio. Non sono esattamente gli ultimi arrivati perché Simone Gianni, detto Simone De Giano, ha già tante produzioni e tante collaborazioni interessanti all'attivo, anche in generi piuttosto diversi tra loro. I tre sono riusciti a confezionare un brano molto interessante e soprattutto molto attuale. Si inserisce perfettamente in quella fornice che ha avuto il suo via con cola, un grande successo degli ultimi anni. Quella house con atmosfere un po' cupe ma comunque orecchiabile, che può essere adatta sia per essere ballata che soprattutto per le radio. Anzi, forse a maggior ragione. È proprio lì la prima ragione di questo successo. È un brano che si ascolta molto volentieri, pur essendo comunque di atmosfera house. Merito particolare va alla scelta dei cantanti, ovvero i good boys, che sono un progetto inglese e cantano appunto con un marcato accento inglese, il che rende il brano molto appetibile per quel tipo di mercato. È una scelta intelligente quella di non puntare soltanto al proprio orticello, ma cercare qualcosa che potesse andare oltre, con il rischio però di misurarsi in un'atmosfera veramente competitiva. Però in questo caso è andata piuttosto bene. Una scelta importante che hanno fatto i tre è stata quella di affidarsi ad un management che più che all'etichetta ha puntato a promuovere il brano partendo molto forte in questo tipo di mercato estero. Quindi il lancio vero e proprio del disco è avvenuto con i passaggi su BBC Radio e su Capital, che poi Capital ha voluto in Medusa per la propria festa e i tre sono riusciti a suonare a Wembley di fronte a 80.000 persone. Il racconto di questa esperienza lo troviamo nell'articolo dell'intervista che ha fatto DJ Mag Italia che riporto qua in descrizione. È stata una scelta molto intelligente perché ha permesso di poter investire in qualche modo sul brano cercando di andare oltre quelli che sono gli schemi classici, puntando quindi su un management forte. Dopodiché i Medusa sono stati subito attratti da richieste di remix, da booking, da festival internazionali ed è anche questa una caratteristica veramente rara per un prodotto italiano perché purtroppo anche i grandi successi del passato e penso a Blue degli Eiffel, che comunque è riuscito ad entrare in classifica inglese e si parla del 1999, comunque non ha dato al trio torinese modo di poter suonare un po' in tutta Europa, se non proprio sull'onda del primissimo successo del brano. E invece Medusa hanno passato un'intera estate calcando i principali palchi di tutta Europa e firmando dei remix importanti come In Arms su Defected e anche artisti importanti hanno remixato la loro hit di successo. È un brano che non punta al mercato italiano perché intanto le radio italiane danno poco spazio a brani di questo tipo se non arrivano veramente ad un enorme successo. E poi in Italia non ci sono serata di questo tipo. No, mi dispiace, non ce ne sono se non sporadicamente e con un'incidenza veramente bassa. Di conseguenza il brano di Medusa torna a essere suonato in Italia dopo aver fatto il giro delle radio e dei locali di tutta Europa. E anche quello purtroppo è una scelta mio da parte nostra, anche se va dato un grande merito ad M2O per aver spinto il brano e quindi anche ad Albertino per averci creduto fin dall'inizio. Ne abbiamo già parlato anche nel video dedicato ad M2O. È quindi stata una scelta molto lungimirante da parte loro di collaborare fin dall'inizio per questo. Questo brano sancisce forse un ritorno della House? Beh, purtroppo direi assolutamente no. Ma di questo ne parliamo in un video dedicato. Intanto complimenti a Medusa. Speriamo che questo porti una certa attenzione nei confronti dei produttori italiani e anche di ciò che esce dal nostro paese anche in ambito dance o house. Però nel frattempo comunque i risultati sono lì tangibili e auguriamo quindi che questo successo dei Medusa continui ancora a lungo e li porti ancora più lontano. Continua a seguirmi su Essere DJ Oggi e alla prossima.